Io desidero dei paesi ordinati, puliti, anche con tanti fiori, perché vivere in posti sereni porta anche dei vantaggi al nostro modo di vivere e credo che l'amministrazione comunale debba dare l'esempio. Molto piacere di essere riusciti a fare questo marciapiede, di averlo anche fatto con asfalto rosso, proprio per dare questo segnale indispensabile che ogni paese del Comune di Berceto è bello e deve diventare più bello. Abbiamo anche veramente piacere di aver risolto anche i problemi di sicurezza per i bambini delle nostre scuole, alle scuole ci teniamo tanto e di aver risolto anche i problemi della caduta delle acque e che quindi non ci saranno più o non ci dovrebbero essere più degli allagamenti nei garage e nei bassi fondi. Grazie. Grazie. Grazie.